. Michelle Hunziker a Sanremo 2018? Parla la showgirl. Michelle Hunziker confessa che le piacebbe condurre il Festival di Sanremo 2018 al Maurizio Costanzo Show. . Stasera 16 novembre 2017, andrà in onda la seconda puntata del famoso talk show condotto da Maurizio Costanzo su Canale 5, in seconda serata. Tra gli ospiti della puntata a raccontarsi sarà la bellissima showgirl Michelle Hunziker. . A quanto pare, la Hunziker è tra le possibili candidate per la conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo 2018, insieme a Claudio Baglioni. . Intervistata da Maurizio Costanzo, la showgirl ha fatto sapere che se glielo chiedessero accetterebbe con gioia. . Secondo la Hunziker si tratta della festa più bella dItalia. . Già in passato, la Hunziker è stato alla Riston durante il Festival di Sanremo del 2007, dove ha affiancato Pippo Baudo. Le voci girano sul web già da molte settimane, proprio il sito di TV Sorrisi e Canzoni aveva inizialmente reso interessate la notizia. . Ad oggi, però, nessuna conferma era ancora arrivata. . . Gli ospiti della seconda puntata del talk show. . Maurizio Costanzo, durante lintervista, le ha augurato di prendere parte al Festival di Sanremo 2018. . . Inoltre, Costanzo le ha fatto i complimenti anche per il suo libro in uscita per Mondadori. Intanto, tra gli ospiti della sera presenti al Maurizio Costanzo Show vedremo anche, gli ex delle sorelle Rodriguez, Stefano De Martino e Francesco Monte, Eleonora e Francesco Ragone. . Ma le sorprese non sono finite, infatti a raccontarsi saranno anche, Maria Grazia Cucinotta, Corinne Cleri, Andrea Pucci e Dario Vergassola. .